Una bioraffineria è un impianto industriale che è in grado di convertire materie prime di origine rinnovabili in bioprodotti, ovvero in sostanze biochimiche per l'industria dei polimeri, della cosmesi, della farmaceutica, oppure anche biocarburanti, alimenti o prodotti per la mangimistica. Le bioraffinerie di Novamont si inseriscono in un modello di bioeconomia intesa come rigenerazione territoriale basato sulla reindustrializzazione di siti dismessi, sulla filiera agricola integrata e sui prodotti intesi come soluzioni. Questo significa che le nostre bioraffinerie sono state costruite a partire da siti produttivi dismessi o non più competitivi e rigenerati attraverso tecnologie prime al mondo ed impianti innovativi. In questo modo Novamont ha contribuito a preservare terreni vergini dal consumo di suolo e a rigenerare aree industriali e rurali a rischio di abbandono, con ricadute positive sull'occupazione e sulle economie locali. Questi impianti sono stati rivitalizzati per permettere la produzione a partire da materie prime di origine vegetale, provenienti da filiere agricole sviluppate in collaborazione con gli agricoltori e con le loro associazioni.